Pezza Luigi, 1926. Io sono andato a lavorare a 12 anni. Ho fatto diversi stabilimenti, pizzorno, poi sono andato a lavorare in Piazza delle Erbe a Savona, dove c'era il mercato all'ingrosso di frutta e verdura, e ho lavorato lì fino al 1940. Uomo di fatica, c'era scritto sul libretto di lavoro. 12 anni, 13 anni, uomo di fatica. Allora a quei tempi era così. Volevo dire sollevare delle ceste di patate, di cipolla, tutto quello che capitava da vendere che arrivava io dovevo pesarlo, spostarlo, facevo tutti quei lavori. Dalla mattina alle 6, perché lì cominciavano presto, e fino al pomeriggio alle 4 e alle 5. Chi lavorava più o meno eravamo tutti, gente che ci si conosceva, che era nella zona del centro storico, più o meno tutta gente che era lì, e ci conoscevamo tutti. E gente, fratellanza, ce n'era, tutto. Era un lavoro, si può dire, pesante ma divertente, perché ci si aiutava, ci si voleva bene. Ecco, il lavoro non era poi, non diventava tanto faticoso, anche se lo era. Io sono di Via Pia, centro storico. Sono nato in un vicolo in Via Pia. Uno di quei piccoli che da Piazzetta Maddalena va a finire dal Duomo. Sono nato lì. I cassari erano lì vicini e ci andavamo perché c'era quello che vendeva il brodo di Trippa. Allora andavamo lì a rifornirci. E ad ogni modo ho lavorato lì fino al 40. Poi sono entrato nell'Ilva. Subito inizialmente ho lavorato come boccia dietro i locomotori a inganciare i vagoni che portavano le grandi billette di ferro dai forni ai reparti. E sono stato lì fino alla fine del 41. Dopo mi hanno trasferito un centrale elettrica e lì ci sono stato diversi anni. E lì è arrivato il 26 luglio la caduta del fascismo. Allora lì c'erano due o tre dentro, dei giovani che la pensavano come me. Ci siamo organizzati. Noi siamo usciti dall'Ilva e io con un certo Lagorio, che era un socialista, aveva qualche anno più di me, prima cosa siamo andati sulla campanassa a tollerè, il vestillo a tollerè, il vestillo che c'era con l'emblema del fascismo, cioè della corona reale, e abbiamo messo il tricolore senza niente, la prima cosa. La seconda cosa siamo scesi giù, siamo andati al prolungamento che c'era una manifestazione sotto il monumento di Gariballi. Dopo quella manifestazione lì allora hanno detto andiamo tutti alle fornaci, che c'è una sessione fascista, che c'è ancora tutto dentro. Allora noi siamo partiti in colonna, siamo arrivati sul ponte del fiume e lì c'era un gruppo di militari fermi che non dovevano lasciarci passare. Però siamo andati a parlare con l'ufficiale, abbiamo detto se non ci fate passare o sparate o qui succede un casotto. Allora si sono ritirati e eravamo qualche migliaio. Mesa Savona era lì e Mesa Savona era la piazza del monumento. Siamo andati alle fornaci, siamo entrati in rento alla sezione fascista, che era a piano della strada. Abbiamo cominciato a buttare via mobili, tutto quello di cui documenti. Nel frattempo di fronte c'era la milizia fascista. Cosa ha fatto la milizia fascista? O che si sono trovati paura, non so cosa, sono usciti fuori, hanno piazzato la mitralatrice in terra e hanno cominciato a sparare. E di fatto lì sono morte due donne, due donne che non avevano niente da fare con noi. Uno abitava lì e l'altra non era, era di passaggio. Noi ci siamo salvati perché c'era un trasloco di immobilia. C'era il camion proprio lì di fronte e ci siamo salvati dietro al camion. E un mio amico che era insieme a me ha preso un certo govone, eraldo, ha preso una palottola qui nel polpaccio. L'abbiamo caricato, l'abbiamo fasciato il piede e la gamba con una bandiera che era appesa e messo su un carretto e l'abbiamo portata all'ospedale. Intanto lì sono subentrati dentro lo stabilimento tutti quelli fuoriusciti che erano scappati per via del fascismo. C'era Pompili V che era in Francia, Esule e poi ce n'erano tanti altri. E di fatto lì dove lavoravo io c'era un'officina meccanica e ci lavorava il Pompili. E' entrato nell'officina allo suo vecchio posto. E li abbiamo preso a parlare, lui mi ha insegnato tante cose. Lui mi parlava di fascismo e di clandestinità. I miei erano tutti antifascisti in casa, tutti. Meno che mia mamma che era una beghinotta. Ma mio padre e i miei fratelli erano tutti antifascisti. Infatti mio padre aveva fatto un anno e mezzo di confino. perché nel 1935-1936, quegli anni lì, il 28 ottobre c'era una sfilata di fascisti per le vie di Savona, sotto i portici di via Paleocapa. E mio padre non si è tolto il berretto. Allora uno di quelli, di quelli che erano a fianco, è uscito e è andato lì e gli ha dato uno schiaffo da capire. Mio padre era un uomo che era quasi 1,90 di statura, era un di Parma, era un uomo che sarà stato 90 chili. Come ha sentito sto sberla, lui non ha visto più niente e ci ha dato un pugno, l'ha buttato in terra e ci ha rotto un braccio. Tutti gli altri, come hanno visto cosa è successo, una dosina di fascisti, tutti addosso a mio padre, e qui avevano chi manganelli, chi qualcos'altro. Mio padre si è difeso e lì ne ha preso ma ne ha dato anche tante. Però l'ha preso, l'ha portato a Sant'Agostino, ci hanno fatto il processo e ci hanno dato tre anni di confino a Ventotene. Allora Pompili mi dice, ti ha sentito, c'è il fronte nazionale, gioventù comunista, ma ti vuoi iscrivere perché vedo che sei intraprendente, ti dai l'affare. Io gli ho detto, sì sì, io mi iscrivo e dentro lo stabilimento voleva dire allora galera o fucilazione, se ti beccavano, perché tra l'altro io ero, l'ha detto stampa, cioè io cosa facevo? Una volta al mese andavo a ritirare il giornale L'Unità, che era solo un foglio, e lo portavo a un ferroviere da Torino, lo portavo a Savona, lo portavo a un certo Rosati, era un anarchico che abitava in via Torino, aveva una cantina con un ciclostile, e lui ciclostilava l'unità davanti e di dietro, poi me la dava, andavo a prenderla io, l'ho portato dentro lo stabilimento e la vendevo, e una trentina di unità a quelli che conoscevo, allora costava 50 centesimi a quei tempi. E in più io raccoglievo i soldi del soccorso Rosso per le famiglie che avevano persone in galera, compagni, eccolo lì. Le riunioni di cellula le facevamo, quando suonava l'alarme, nella galleria del Priamar, dentro le gallerie, le facevamo lì perché avevamo paura, andavamo lì a fare le riunioni di cellula, e Pompili era il responsabile della cellula. Lì dentro che eravamo un 5, io come giovanile, poi c'era Pompili, il responsabile dell'organizzazione, e altri due compagni, era gente anziana. Un fatto, un giorno sono all'alarme, andavo dentro. Arriviamo dentro, c'è Pompili, ci sedevamo in un angolo da parte, un po' scostati dagli altri, per non far sentire, e io vedo che le cose cominciano ad andare a lungo. Ci dico, guarda Pompili, qui se c'è stata l'alarme dobbiamo rientrare a lavorare, non possiamo. Però dice, c'è uno nuovo che devo presentarvelo. Vabbè, aspettiamo, aspettiamo. Io a un certo punto vedo arrivare, non so se l'avete, Don Genta, che al porto cos'era? Parroco al porco della chiesa. Vedo arrivare Don Genta, ma io non mi immaginavo che Don Genta faceva, che era stato, che era reclutato lì dentro. E arrivo lì Pompili, lui si ferma, Don Genta mi guarda e mi dice, noi ci conosciamo già, perché era quello che mi ha fatto il catechismo per la comunione, era lui. E lui mi dice, io ho sempre saputo che te eri un ribelle. E io ci rispondo, io ho sempre saputo che eri un prete falso. Allora i preti andavano alla manifestazione con i guagliardetti fascisti, e Don Genta invece ha partecipato a suo modo alla resistenza. Perché tante cose non ve le ho raccontate, non che stavamo qui fino all'indomani. No, per esempio, noi, dove c'è la prefettura? Dove c'è la prefettura adesso? Prima c'era la federazione fascista. Quando è venuto dopo l'8 settembre, che c'era un po' il compilio, c'era il coprifuoco. Noi avevamo un amico che abitava in via Milano, e tutte le sere venivano giù, veniva in via Pia, che c'erano delle ragazze, lui le conosceva, e facevamo, va bene, sai, come succede ai ragazzi. Lui a un bel momento, non lo vediamo più, dice, ma come mai che non viene più? Perché i fascisti hanno messo un farro fuori dalla federazione fascista, con dei sacchi in giro, hanno piazzato un farro che controllava tutti i palazzi in giro, e lui doveva passare di lì. E una sera, l'ha beccato il farro, e l'ha gridato, orti, fermati o spariamo, avevano la mitraglia. Tu chi si è trovato paura, non veniva più. Allora abbiamo detto, ma porca miseria, il farro, vai, chi sono questi qui? Doviamo trovare rimedio, trovare rimedio. Tu qui dice, era in gamba, eh, sto ragazzo qui, che poi è morto a Genova nei bombardamenti. Dice, porca miseria, ce l'ho io, ho un modo di toglierle il farro. Come? Io mi procuro una bomba a mano, mi dice, e la tiriamo contro il farro. In mezzo a un palazzo c'era un vicolo, e sarà stato largo così, che da via Pia va a finire, quasi sull'angolo di là. Tu qui dice, l'unico punto coperto che possiamo fare è andare a ritirare la bomba. Non è che c'era tutta la piazza, e la bomba pesava, porca miseria. Allora cosa abbiamo fatto? Ci eravamo tre o quattro, andavamo al Bosco delle Ninfe, abbiamo cercato una pietra tonda del peso della bomba, e per una settimana ognuno tirava a sto fare. L'unico che ce la faceva a tirare al rivale, perché avevamo misurato quei passi quanto c'era, era quello lì, quel ragazzo lì, quel giovanotto lì, va bene, lui era del 24. Decidiamo una sera, andiamo in tre, uno si mette da via di qui, uno si mette da via di là, lui prende questa bomba, esce dal vicolo e lancia la bomba. La bomba va a finire proprio in mezzo ai fascisti. La mitraglia è andata a finire in mezzo alla piazza, i due o tre fascisti feriti, gravi, io non so, un casino, i sacchi tutti in terra, un casino, tutti sparavano dalle finestre della federazione. Noi siamo scappati, siamo andati a finire. Nel fiume abbiamo fatto via non un bosco, perché non... Siamo scesi nel fiume e siamo andati a finire al pronuncamento. Siamo camminati sul fiume e siamo usciti al pronuncamento. Quando è dal pronuncamento siamo andati a finire nel casino, c'era il casino via Fraschieri, c'era un casino, siamo andati a finire lì dentro e siamo stati lì, poi siamo andati via. Un giorno mi chiama Pompilli, mi dice sta a sentire. Abbiamo avuto delle informazioni che se il suo libro paga dei fascisti mi hanno detto devi stare attento perché il libro paga cosa volevo dire? Che sei segnalato, che sei scritto, sottolineato, rosso. Ci ho detto ma io non so, io non mi sono accorto niente. Sì sì, qualche d'uno dentro al stabilimento ha fatto la spia, ha trombato. E' paziente, lì sai può succedere. Ad ogni modo mi dice devi stare attento. E io penso, porca miseria, sei qui, erano i primi momenti che cominciava la resistenza. Erano i primi tempi che andavano qualche d'uno in montagna. E allora cosa facciamo? Ma io devo pensare che se devo scappare cosa faccio? Vado su e cosa faccio? Tiro le pietre. E non c'è niente. Allora i primi tempi le armi in montagna non ce n'erano. Allora penso, ma qui devo recuperare qualcosa. Combinazione, conoscevo una signora che diciamo che era una battona. E in casa, e da qui riceveva in casa. Siccome io la conoscevo, a volte ci andavo a fare delle commissioni. E mi dice, ti sentire non venire al giovedì perché c'è una persona che viene e non deve vederla nessuna. Io gli ho detto, ma chi è questa persona? Guarda, non te lo posso dire. Però mi dice, guarda, tutti i giovedì è qui. Sembrano un roggio svizzero. Alla tre ore, alla sera, arriva. Ma l'anno gli ho detto, porca mondo. Voglio sapere chi è. Allora mi metto in sette pratici di Sant'Andrea. C'è la fontanella dell'acqua lì dietro. Lì vicino c'era un cortiletto tra due case. Era sempre aperto. Io vado lì, entro dentro, guardo un po' e dico, qui è un posto buono. E aspetto, aspetto un giovedì, non lì dentro, fuori, perché dovevo stare attento perché c'era la coprifuoco. Alle nove, preciso, sento dei passi lì da Sant'Andrea. Boh, i tedeschi avevano i ferretti perché dovevano fare rumore per incutare il pezzo. La gente aveva paura. Quando le sentiva aveva solo paura di sentirli marciare. Io sento questi passi e dico, ma puoi vedere. Guardo, allora entro dentro, guardo un po', porca miseria, ti vedo uno, un tedesco. Era un maresciallo tedesco. Era un pertilone alto, era della felde gendarmeria. Tu qui passa, io lo vedo passare. Ho detto, è lui. È andato dentro lui. Porca miseria, dico. Ma, quello lì, come... Sai, lì è un... Bisogna che stia attento perché io mi organizzo. E beh, vado lì, di fronte al bar Colombo, c'era Piazza Colombo. C'era un idraulico, un certo Rampini, che era un fratello, un amico di mio fratello. Io vado lì e ci dico, sta a sentire, Giovanni, mi servireva un pezzo di tubo di piombo. Perché allora tutto era fatto col piombo. E io mi dice, guarda, lì c'è un nuovo mucchio. Cosa ti serve? Devi fare i pallini per andare a caccia? Ma no, mi serve che diventa contropeso per il bollentino, il pezzo di piombo. Ma vabbè, io ne vedo un bel pezzo così, grosso così, lo prendo, lo schiaccio da una parte, lo riempio di sabbia, poi lo schiaccio da un'altra parte e prendo quello lì. Allora, a giovedì mi infiro lì dentro. Infiro lì dentro, aspetto. Più avvicinava, era sui 20 di novembre mi sembra, 18-20, adesso preciso non so. Sono lì, aspetto, niente. Porca mia, sento suonare la campana di Sant'Andrea, le ore, ho detto dovrebbe essere. Difatti dopo due minuti sento i passi, porca miseria. Però lì il cuore mi è venuto un bocca, perché ho detto qui, se sbaglio, quello mi ammazza. Cosa devo fare? Sento venire giù, io aspetto, chiudo un po', lascio appena una fissura. Come lo vedo passare? Solo che l'ho visto di nuovo bene, le gambe mi tremavano. In ogni modo ho deciso, esco fuori, boom! Lui dà un batta in terra, un rumore di ferraglie, perché aveva mitra, pistole, quattro caricatori qui davanti, li avevo, boom! Va in terra, porca miseria, io guardo un po' in giro, non vedo nessuno, prendi il mitra, prendi la pistola, prendi i caricatori, rientro dentro, avevo visto già prima che c'era un buco, e metto tutto lì dentro. Ho detto, se porto la roba a casa, che vengono a fare una pericolazione, ammassano tutta la famiglia, è guai, e anche i vicini, allora lo nascondo lì e vado a casa. Non è successo niente, perché si vede che sto qui non ha detto niente, perché se lui avesse detto perché era successo lì, dove andava, andava nei guai, lo mandavano subito in Russia a combattere, allora si vede che non ha detto niente, e allora è passato tutto tranquillo. Dopo qualche giorno, Pompili mi chiama e mi dice, guarda, devi scappare, perché vengono un giorno o l'altro, vengono a casa, se non sono venuti, vengono in casa tua a buttarti all'aria tutto, c'è niente, no, no, a casa non c'è nemmeno più tanto, pezzo di carta così, ma ho detto, va bene, bravo, fai così, ti fa un lavoro, ad ogni modo, se puoi, se trovi un posto, non andare a dormire a casa, però io vado a casa, subito dico ai miei, mi sta succedendo questo, questo, io devo scappare, devo scappare. Però avevo un po' di timore perché un fratello era disperso in guerra, l'altro era morto nel Sacrare dei Caduti a Zinola. Mia mamma e mio papà erano un po' anzianotti, ho detto, qui, se ci dica ancora cosa... E allora ci dico, guarda, io devo scappare. E si, non dovevi farlo, tu sei buttato nei guai, di qui, di là, e adesso come facciamo? Guarda, io parlo un po', vado a parlare con Rebagliati, che poi è diventato presidente al porto, era un amico di mio fratello, che era della medesima leva, Giovanni. Vado a parlare con lui, ci dico, guarda, io sapevo che lui organizzava la resistenza già, ci dico, guarda, io dovrei andare in montagna a scappare, guarda, io per adesso non posso fare niente, perché quello che avevamo, che portava sulla gente in montagna, mi dice, è malato e non c'è nessuno, io non so cosa fare, te nasconditi, vuol dire che appena io mi nascondo, ma da qui vai? Allora, sai, chi ti nascondeva doveva darti da mangiare, e mangiare non ce n'era. Mia mamma mi dice, guarda, sta a sentire, c'è un mio zio che è sopra a Cengio, a rocchetta di Cengio, telefoniamo se ti può ospitare lui, e di fatto il telefono ci dice, sì, sì, fallo venire su, io vado su, sto qui, vado in casa, sto lì, dopo due giorni arriva il fidanzato di mia cugina, che era una staffetta partigiana, e parliamo, ci ho detto, io guarda, devo andare poi a Savona, appena posso che trovo chi mi porta a montagna, ma di montagna ti ci porto io, mi ha detto, è il mio compito, sto qui, da sentire, domani mattina ti vengo a prendere io, domani mattina alle cinque, viene, su, mi prende, andiamo giù a Cengio, c'è tre chilometri, andiamo giù a Cengio, a prendere la corriere, prendiamo la corriere che va a Montezemor, a Roccavignale, quando arriviamo di fronte, è un bivio che va a Camponuovo, scendiamo, mi porta su montagna, Camponuovo, Castelnetto di Ceva, c'è un comando partigiano, c'era Poupilli, c'era Libero Bianchi, i primi che andavano su, e altri tre miei amici, che erano del 24, per non andare a militare, sono scappati in montagna, e sono stato lì, fino a 25, e 26 di febbraio dell'anno dopo, sono stato lì. Allora, le armi tedesche, io subito non le ho recuperate, perché quando ha stato il mio zio, non poteva andare con le armi, sai, se ti fermano sul treno, allora, quando sono stato a montagna, ho detto a uno, che veniva giù, guarda, vai là così, così, e lui me le ha prese, me le ha portate, poi, c'è lo sciopero dell'Ilva, il primo marzo, del 44, Bompili mi chiamano, mi dice, stai a sentire, tu devi andare in giù, in giù perché? Perché devi organizzare i tuoi, che sono iscritti al fronte della gioventù, devi andare in giù, te che sei responsabile, però vai in giù, non andare a dormire a casa, ti diciamo dove andare noi, e te ne stai lì, e io sono andato in giù, sono andato a casa di questi, e la sera, la vigilia del primo marzo, sono entrato nello stabilimento, di notte, perché? Di giorno ormai non potevo più, e poi avevo paura, che mi vedessero, che dopo tanto tempo, sono entrato, ho fatto finta di liberare il cartellino, sono andato dentro, ho distribuito i manifestini che mi hanno dato, e sono stato un po' lì, alla mattina alle sei sono uscito, ho fatto l'omedesimo lavoro, ho fatto finta di liberare il cartellino, come esco lì fuori, che c'era le scale, te lo so se te lo ricordi l'Ilva, c'aveva le scalette, scendo, come scendo le scalette? c'è il marasciallo Cardorani, della polizia politica fascista, due agenti in borghese, e due San Marco armati, dei fianchi, lì come mi vede Cardorani, viene in mente, mi viene incontro, e mi dice, la prima parola che mi dice, mi dice, ci sei stavolta, ci sei cascato, ti abbiamo beccato stavolta, e mi dice, per che cosa beccato, io la notte non lavori dentro, te nello stabilimento, è più di due mesi che manchi, mi dice, sei latitante, ma io no, vieni con noi, mi prendono e mi portano a questura, portano a questura, camera di sicurezza, sto lì un'oretta, e poi mi prendono e mi portano a Sant'Agostino, Sant'Agostino, vado a Uncella, trovo altri tre, un certo De Martini, Pietro, che poi era diventato direttore dell'ospedale San Paolo, un certo Barandini di Quigliano, che poi è diventato sindaco di Quigliano, e poi c'era un certo Carletti, un anarchico, un toscano, ma una persona, una chiacchera, ma una persona buona, va bene, stiamo dentro, è verso le dieci e mezza, ci fanno uscire, ci portano di nuovo a questura, e lì sono arrivati tutti quelli che hanno rastrellato nell'Ilva, per lo scioper, ci hanno preso tutti, ci hanno portati in Corso Ricci, dove c'è adesso la questura, in Corso Ricci, lì prima c'era il comando della Guardia Nazionale Repubblicana, era lì, ci hanno portato lì, e di lì ci hanno beccato, ci hanno caricato sui treni, ci hanno portato al Merela Spottorno, che era una colonia marina dei milanesi, ci hanno portato lì, come campo di concentramento, siamo stati lì tre giorni, io lì dentro, una sera, arriva uno, in divisa, la fascista, col moschetto, mi viene, mi dice, sai chi sono io, ti dico sì, eravamo a scuola assieme, sei marinari, sei guido, sì, e ho detto, ma come mai si è andata a finire lì, i suoi erano tutti fascisti, suo padre era marescello dei carceri di Sant'Agostino, era una famiglia di fascisti, e lui era lì dentro, mi dice, sta a sentire, gli dico una cosa, vengo un po' più tardi, non avete più mangiato, no no, è due giorni che non mangiamo, va bene, è arrivato con due filoni di pane, mi dice, te, mangiali, se ne vuoi dare un pezzo ai tuoi compagni, a qualche d'uno, però mi raccomando, non mica dire che se te lo trovano, che sono stato io, perché dunque è guai, no no no, poi una cosa, mi dice, tante a sentire, se potete scappare, scappate, perché c'è una discussione, tra il prefetto Mirabelli e il comando tedesco, che il prefetto vorrebbe fare la decimazione, per dare un esempio, invece i tedeschi vorrebbero mandarvi in Germania, perché hanno bisogno di mano d'opera, cioè lì cominciava già la guerra andare avanti, i tedeschi a prendere le loro battoste, e io ci dico, ma cosa vuoi dire, come fai a scappare, da tutte le parti c'è filo spinato, ci siete come le mosche, voi altri, va bene, all'indomani si ferma un treno, lì sotto che c'è la ferrovia, ci ricaricano sopra, e ci portano a Genova, alla Villa di Negro, e lì fanno una selezione, interrogatori, qualche sberla, qualche calcione, e cercano i validi al lavoro, e gli invalidi, perché i tedeschi volevano quegli validi, gli invalidi c'era il capo, lì c'era il minimo, e lì fanno la selezione, e c'era la corsa, per farsi passare da invalido, ma io dico, cosa vuoi dire, da invalido, allora ero, avevo 16 anni, 17, io ero grande come adesso, e sembrava un ritratto della salute, va bene, all'indomani, quando hanno finito, ci ricaricano di nuovo, e via, ci spediscono, a Sesto San Giovanni, ci fermiamo, e lì entrano gli altri, quelli che hanno fatto sciopero, nel milanese, caricano su, mettono, attaccano altri vagoni, chiudi, piombi, e parti, e siamo andati in Germania, ma in Germania, quelli là, gli invalidi, a Mauthausen, e di 76, ne sono tornati tre, morti tutti, noi, ci abbiamo portato in un campo di lavoro, in un grosso stabilimento, in lo stabilimento, dell'Hermann Göring, uno dei più grossi stabilimenti tedeschi, siamo andati lì, a lavorare, alla mattina, ci alzavamo alle 6, appello, poi partivamo, veniva la guardia armata, ci prendevano, ci portavano allo stabilimento, a lavorare, lavorare, non lavorare allo stabilimento, a togliere le macerie, dei bombardamenti, manualanza, e siamo stati lì, per me, dopo due mesi, succede che, alla mattina, ci fa alzare, esce il capocampo tedesco, fa l'appello, poi dice questo qui, aveva un mucchio di papiri, in mano, vede i papiri, e dice, pezzo a Luigi, un passo avanti, io ero un figlio, faccio un passo avanti, qui ci siamo, fanno loro la decimazione, se cercano, poi chiama, un altro, che aveva 2-3 anni più di me, di, di cosa, di vicino a Milano, e lì lo chiama, un certo Antonio, lo chiama, viene lì anche lui, poi dice, poi altri dovete andare via di qui, porca miseria, e dove dobbiamo andare? Oh, io non sapere niente, dice il tedesco, ma, va bene, ci mette in una stanza, chiude, dopo 2-3 ore che eravamo lì, arrivano tre poliziotti tedeschi, in borghese, ci prendono, ci mettono le manette, ci caricano su un treno, e via, viaggia, e via, abbiamo viaggiato più di un giorno, e siamo arrivati in Austria, in Austria, a 80 chilometri dal confine Svissero, in una grande fattoria, una fattoria che era immensa, c'erano 300 mucche, 500 maiali, erano approvvigionamenti per le forze armate tedesche, oh, che anni, c'era di tutto lì, e noi, siccome avevano grandi, un mucchio di, di trattori, di erpici, avevano bisogno di un meccanico, di un elettricista, ma io non sapevo niente, nell'IVA era un boccia, però, sul mio documento c'era scritto elettricista, meno male, va bene, andiamo lì, e lì chi comanda, arriva uno, un ucraino, viene un ucraino, e lui dice, io sono capo, voi italiani, sì, ma italiani, brava gente, e lui dice, oh beh, noi cominciamo bene, e allora, cosa c'è da fare, ma io, ci ho detto, guardia, io, non è che sia tanto, ho bisogno di imparare, te non ti preoccupare, mi ha detto, non ti, fai, quando ti dico di fare un lavoro, te vai lì, fai finta, fai non finta, poi vedrai che io mi interesso, vengo io a darti una mano, va bene, e lì, ci sto due mesi, tanto mi sono rifatto, perché quando sono arrivato lì, ero 54 kg, 55, di 70, e lì mi sono riempito bene i tubi, perché da mangiare, ce ne davano, perché la proprietaria, era una donna, il marito era morto in Russia, era un ufficiale tedesco, che è andato in Russia, e c'era lei che comandava, una brava persona, umana, umana, lì ci trattava proprio come, poi un bel momento, sto qui, ci chiamo, ci trattassi a sentire, qui sta succedendo un casino, la guerra sta per finire, giugno, luglio del 44, lui sentiva la radio, e aveva le notizie, e dice, e io so che i tedeschi, quando scappano, vanno via, in questi campi, ammassano tutti, bisogna stare attenti, perché voi siete prigionieri, e di fatti, di dietro avevamo scritto, prigionieri, cammina, 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 qui ci aveva detto, guardate, che quando arrivate, a un certo punto, trovate un grosso lago, il lago Costanza, che è tra l'Austria, e la Svissera, però questo lago, dovete prenderlo, girarlo sulla sinistra, perché se lo prendete sulla destra, tornate di nuovo indietro, e noi siamo camminati, abbiamo cercato, poi siamo arrivati a un certo punto, un giorno, sentiamo dei cani, ci nascondiamo, passano tre tedeschi, uno anziano, col fucile, e due di questi giovani, qui avevano i cani lupo, forse, meno male, che il vento era contrario, perché sono cani addistratti, per la gente, al confine, e lì, sono passati, e io ci dico a sto qui, se ci sono questi qui lì, il confine non è tanto lontano, allora, come sono passati, siamo andati avanti, abbiamo camminato ancora, cinque, sei chilometri nei boschi, poi abbiamo sentito, di nuovo, degli altri cani, porca miseria, ma quanto c'è nessuno, guardiamo, vediamo venire su, di nuovo erano un quattro, io ci ho detto, ma quelle divise lì, non mi sembrano quelle tedesche, era la guardia frontiera, della Svissera, poi il comodo ci ha detto, qui siamo, allora siamo in Svissera, allora ci siamo usciti fuori, abbiamo gridato, e ci hanno sentito, tanto come siamo arrivati lì, ci hanno preso con le armi, e ci hanno portato giù, siamo andati, abbiamo passato la frontiera, siamo andati in una cittadina, San Gallo, è vicino alla frontiera, San Gallo, siamo andati lì, siamo portati nella gendarmeria, ci hanno chiuso in una camera, ci hanno dato da mangiare, e poi è venuto un interprete, un interprete, e ci dice, voi altri chi siete? Siete tedeschi? No, no, noi siamo scappati dalla gendarmeria, noi siamo italiani, e beh, avete documenti, noi non abbiamo niente, eravamo prigionieri, sì, ma siccome la guerra sta per finire, e tanti tedeschi scappano, vengono a Svizzera, per scappare dalla guerra, non vorremmo che voi altri, foste di quelli, ma noi siamo italiani, siamo così, va bene, ad ogni modo, ci hanno ribottato dentro, dopo due giorni, arrivano due, due, vengono lì, aprono la porta, entrano dentro, ci dicono, noi siamo due italiani, siamo esuli, che siamo scappati dal fascismo, e viviamo a Svizzera, a Lugano, che c'era un comitato antifascista a Lugano, allora abbiamo, loro ci fanno un interrogatore, ci dicono, come mai che è arrivato in Germania, perché, come è andato, perché abbiamo partecipato allo sciopero del primo marzo, così e così, allora uno ha detto, se è così, siete dei nostri, e allora ci prendono, avevano la macchina, ci portano a Lugano, alla Rolosede, e lì siamo stati altri due giorni lì, e ci dicono, e, se volete fermarvi in Svizzera, potete stare qui, vi facciamo lavorare, o dunque, se volete andare in Italia, gente, noi vi facciamo passare la frontiera, abbiamo chi vi fa passare la frontiera, io sento, io voglio andare in Italia, perché, ho i miei genitori, che sono vecchi, sono rimasto solo, puoi capire quelli là, se non sono morti, dal dispiacere, e, sai, devo andare, lui mi dice, sì, sì, come vuoi, e all'altro ci dice, e te, no, no, guarda, io, io voglio andare anch'io di là, perché a Como, c'ho la mia famiglia, avevano una casa a Como, questi milanesi, la gente, Sesto San Giovanni, allora, ci fanno passare a Lugano alla frontiera, ci danno documenti nuovi, danno un nuovo, ma anche all'altro, un nome falso, perché dice, se andate lì, guardate che in treno, dove andate, dove volete, ci sono un giro, fascisti, tedeschi, ci sei di tutto, guardate, vi fermano, e se non dichiarate che siete, guai, passatele i guai, e dei soldi, e da 600 lire, allora, era il comitato antifascista, l'Italia, erano gente, che erano scappate dal fascismo, ma erano anni, che erano svizzera, gente che erano scappate dal fascismo, e lì poi si sono organizzati, quando è successa la faccenda della guerra, dopo la guerra, andiamo a Como, in casa di questo qui, e lui mi dice, se ti vuoi fermare qui, guarda, ti teniamo qui, io voglio andare in giù, ad ogni modo, il papà, mi dice, guarda, ti sentire, io ti do, vai così e così, prendi il treno, e io ti do, da Como, prendi il treno, e io ti do degli orari, allora c'era il libretto, con tutti gli orari d'Italia, c'era un libretto fatto così, mi dà un libretto, va bene, io vado lì, lui mi porta alla stazione, io aspetto il treno, poi salgo sul treno, e vado a Milano, dal mio a Milano, prendo il treno, vado a Torino, combinazione non ho trovato nessuno, ad ogni modo, ero giovane, la mia leva, forse non l'avevano ancora chiamata, perché l'hanno chiamata, agli ultimi del 44, mi sembra, qui in Italia, la leva militare, ad ogni modo, non ho trovato nessuno, sono partito da Ceva, da Torino, e sono arrivato a Ceva, arrivato a Ceva, scendo, e dico, adesso devo andare in giù, aspetto l'altro treno che va in giù, mi dice uno, guarda che treni per Savona, non ce n'è, perché ha fatto saltare un ponte, che dove devi scendere, scendere giù nella valata, risalire, e di là, c'è l'altro treno che ti porta a Savona, però io ho detto, vado lì, però mi dice, devi stare attento, perché, mi dice, guarda, quando arrivi lì, ci sono i fascisti, che ti controllano, perché ha un paurale della gente, che va a fare la borsa nera, di là, ci sono di nuovo i fascisti, che ti aspettano, per vedere chi c'è, ma io, vabbè, vado lì qui, mi butto lì, nelle braccia di loro, piuttosto vado giù a piedi, nel frattempo, vedo lì, un vice capo stazione, lo guardo bene, e dice, con lui mi sembra di conoscere, e di fatti, era uno, che era venuto a Savona, una riunione clandestina, e l'avevo conosciuto lì, però era passato, un po' di te, ci ho detto, sarà, non sarà, allora ho stato là, l'ho chiamato, ci ho detto, ma io sono di Savona, così, eh Savona lo so, eh sì, e ho detto, guarda, scusa, tanto te lo devo dire, perché, non posso mica, aspettare, e indovinare le cose, c'eri a questa riunione, così, così, che si guarda in giro, mi dice, ma te chi sei, io non c'era alla riunione, avevo paura di me, questo qui, hai detto, questo qui chi è, è una spia, mi fa fare dei guai, ci ho detto, guarda, sta a sentire, io ne vengo dalla Germania, mi è successo, questo, 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 credimi o non mi credimi, se me lo vuoi dire, io voglio andare nei partigiani, ci ho detto, ci sono già stato, così, così, mi dice, si dovere, così, così, va bene, mi dice, al domani mattina è venuto uno, con un furgoncino, mi carica sopra e mi porta, mi porta su, sono andato su, con la motoretta, portava, faceva viaggi di viveri, per il negozio che era lassù, e mi ha portato su, Castelnuovo diceva, Castelnuovo diceva, e la ho trovato uno che faceva la staffetta, e mi dice, te di dove sei di Savona? Eh, mi dice, guarda, ti ci porto io dove ci sono diversi Savonese, di fatto mi porta al comando, c'è, conosco Sto Pompilli, conosco Bianchi, c'era Loppetto, c'era il dottor De Pirro, c'era un mio amico, e sono stato lì, e va bene, e lì abbiamo, sono stato fino a, quando è finita la Cagnara, sì, la liberazione, noi siamo andati, la nostra, la nostra brigata, abbiamo occupato il millesimo, e Montezemolo, Montezemolo c'era, i tedeschi avevano le batterie anti-air, e poi c'avevano due carri armati, e mitratrici anti-air, abbiamo occupato, che i tedeschi erano scappati, erano andati lì, abbiamo occupato, e siamo stati lì, cinque o sei giorni, gli altri, l'altro distaccamento, ha occupato il millesimo, poi dopo siamo venuti già a Savona, era il primo di maggio, no, il 2 di maggio, perché il primo di maggio, eravamo ancora là, il 2 di maggio, allora lì, siamo venuti in giù, sono stato un po', non sono voluto rientrare allo stabile, perché il mio posto c'era sempre, ma era cambiato tutto, l'unica cosa che sono andato a cercare, quel guardiano, ma non c'era più, non c'era più, vabbè, tanto meglio così. Il guardiano ci ha indicato al maresciallo che ero io, ma lui mi conosceva già, però lui è uscito fuori, perché l'ho visto con la coda nell'occhio, che ha fatto così, poi sono stato un po' nella polizia partigiana, come ausiliario, perché non aveva ancora 21 anni, allora ero come ausiliario, e lì siamo andati da fare, gli ebrei partivano da Vado, due navi, due carrette, che sono partite da Vado, dal pontile, noi andavamo a fare la guardia di notte, perché avevano paura che, c'era ancora qualche fascista in giro, e siamo stati lì, e lì ho rivisto una persona, che l'avevo conosciuta a montagna lì, un polacco, un certo Erban Vigoda, Erban Vigoda, Enrico, nome di battaglia, che lui si era laureato in Polonia, si era laureato proprio quando la Polonia è stata invasa dai tedeschi, l'avevano preso e messo in un campo di concentramento, ma io non sapevo niente, quando ero a montagna non ha mai detto niente, poi lui era nel campo, e il suo rettore, che era un amico dei tedeschi, ha detto ai tedeschi, io c'ho un ingegnere, che è un cervello di quelli, che era ingegnere edile, nelle costruzioni di ferrovie, ponti, e strutture di bunker, quella roba lì, i tedeschi sono andati dentro al campo, l'hanno beccato, e ci hanno detto, devi venire con noi a lavorare con noi, ma lui non ci voleva andare, ha detto, guarda, noi abbiamo i tuoi genitori, le tue sorelle, se te non vieni con noi, guarda che vi mandiamo nei campi di concentramento, tutta la famiglia, tu qui un bel momento, ha mandato Giorospo, è andato, è andato, è andato a fare il Vallo Atlantico, è andato a collaborare sulle coste della Francia, a fare il Vallo Atlantico, poi quando è finito lì, poi è successo tutto il casino, lui cosa ha fatto? L'ha preso e l'ha portato in Italia, e l'ha portato qui a Savona, e ha fatto i bunker, i muri a Lioni, lui era lì, ha detto, poi di qui, lui, dentro lì, era con un'impresa savonese, era con la Todd, poi c'era l'impresa savonese che lavorava per la Todd, e c'era un certo Botta, era un antifascista, un certo Botta, era il capo di questa impresa, e con questo polacco, si legavano molto, e un giorno ci dice, sto qui al polacco, guarda, che i rosti hanno liberato Varsavia, tu chi come ha sentito hanno liberato Varsavia? Ha detto, chissà i miei genitori, e sono riusciti a sapere, non so come, che i suoi genitori erano vivi, a posto, allora sto qui, ho detto, basta, il mio compito è finito, andate, la sto qui da Varsavia, ci ha detto, io volevo andare nei partigiani, volevo scappare, è venuto su una montagna, è diventato comandante di brigata, una sera, a Savona, siccome c'erano gli inglesi che comandavano, e non volevano che gli ebrei andassero in Palestina, allora gli inglesi, erano amici degli arabi, allora l'inglese, cosa ha fatto, l'inglese, il comando inglese, cosa ha fatto, il comando inglese, ha parlato a Roma col governo italiano, e ha fatto venire a Savona un ispettore della polizia, è venuto qui a Savona, per bloccare tutto questo affare qui, e andava a mangiare l'albergo Milano, una sera, lui a mangiare, tavolino da solo, manca la luce, come viene la luce, questo qui, la faccia, il commissario, sul piatto, col silenziatore, ci ha parlato nella testa, chi era, senz'altro, è stato, io penso che sia, Vigoda, che senz'altro, perché poi, io un giorno, l'ho visto, ci siamo parlati, e l'ho invitato a mangiare in casa mia, lui doveva andare via, perché l'affare delle ebrei era quasi finito, doveva andare via, e l'ho invitato a mangiare in casa mia, e allora, io ho saputo di lì, che lui era un ebreo, aveva cambiato nome, perché se non che i tedeschi, guai, aveva cambiato nome, già, e aveva finito il suo compito, o che aveva paura che lo beccassero per la pistola silenziosa, se ne è andato, è andato in America, e io non ho più saputo niente.